Con temperature africane come quelle di questo Ferragosto, il pienone sulle spiagge è la cartolina della giornata. Ma cosa offre la città d'arte a chi proprio per questo si nega lo stress della ricerca di parcheggio e spazio vitale persino in acqua e preferisce la frescura di chiese, monumenti e musei? Offre tanto, ma con aperture parziali e nella maggior parte dei casi soltanto nelle ore pomeridiane. Il Museo Storico nel cuore barocco della città apre i battenti soltanto dopo le 15.30, non visitabile né a Ferragosto né domenica invece il vicino Museo del Teatro Romano, visibili soltanto le sale che ospitano mostri al Castello di Carlo V, mentre per la visita gratuita del Maniero nell'ambito degli Open Days di Puglia Promozione bisognerà attendere il 16. Apertura non stop fino alle 19.30 e visita gratis soltanto per il Museo Provinciale Xigismondo Castromediano, ma già ci si allontana dal centro turistico della città. Va meglio con le chiese, visitabili il Duomo, Santa Croce, Santirene, Santa Chiara e San Matteo la mattina fino alle 13, la sera fino alle 20. e per il turismo culturale sotto il Solleone sono operativi punti di ristoro, bare e caffetterie, ma soltanto in centro.